Prima di chiudere due segnalazioni di preghiera. Il rinnovamento nello Spirito Santo di Bologna organizza il rovetto ardente, l'adorazione eucaristica nella notte tra domani, venerdì e sabato nella chiesa di Sant'Antonio Abate del Collegio San Luigi in via D'Azeglio. La preghiera si aprirà domani sera alle ore 21 con la messa e terminerà sabato mattina con la messa alle ore 7.